Buongiorno a tutti, bentrovati, benvenuti a questo penultimo appuntamento del ciclo lezioni d'Europa. Buongiorno e bentrovati, come di consueto prendiamo qualche minuto per fornirvi qualche comunicazione organizzativa di servizio, così diamo tempo a tutti i numerosi partecipanti di fare ingresso in aula. Speriamo che l'audio non dia problemi, abbiamo avuto qualche problema in precedenza, speriamo che ci sentiate bene. Allora, in attesa che tutti gli altri partecipanti riescano a fare ingresso in aula, vi rinnovo il benvenuto, vi ricordo che questo penultimo appuntamento del ciclo lezioni d'Europa sarà registrato come tutti gli altri appuntamenti precedenti, quindi coloro che volessero riascoltare la giornata di oggi, i lavori di oggi potranno farlo attraverso la pagina su Eventi PA, sulla quale saranno resi disponibili in un paio di giorni sia le slide che saranno presentate oggi che la registrazione intera del webinar. Questo lungo appuntamento, come dicevamo, questo ciclo volge al termine, oggi si parlerà di finanziamenti diretti, quindi i principali programmi tematici del periodo programmazione 21-27 che stiamo avendo avvio e concluderemo il prossimo martedì con una panoramica dei primi passi per presentare una progettazione, un progetto a valere su questi programmi tematici che più tardi la collega Claudia Salvi vi illustrerà. Vi ricordiamo sempre le modalità di partecipazione per cortesia, prestate attenzione perché è fondamentale registrarsi all'evento attraverso la pagina su Eventi PA e poi controllare sempre il giorno prima dell'evento, riceverete sempre un'email con il link. Vi raccomando per cortesia di controllare anche gli spam e di non scriverci subito che volete avere accesso perché dovete dare il tempo che rispettare gli orari di inizio del webinar. Vi ricordiamo anche che coloro che hanno fatto la registrazione e quindi si sono iscritti potranno ricevere un attestato di iscrizione che potranno scaricare direttamente dalla sezione i miei eventi sulla piattaforma Eventi PA attraverso cui avete effettuato l'iscrizione, previa compilazione di un questionario di gradimento che ovviamente ci serve per avere i vostri feedback in un'ottica sempre di miglioramento delle attività divulgative che realizziamo. Anche su questo vi preghiamo di avere un po' di pazienza, di solito ci inondate di mail subito dopo la realizzazione degli eventi sollecitandoci il rilascio degli attestati. Siccome questo richiede un minimo di elaborazione dati, siccome siete con il nostro grandissimo piacere e numerosissimi a partecipare a queste attività, vi chiediamo cortesemente di darci qualche giorno di tempo per effettuare le verifiche del caso rispetto ai dati di partecipazione. Brevissimamente, ormai siete tedeschi, quindi già conoscete i nostri canali di comunicazione, ma per coloro che seguissero questo webinar per la prima volta vorrei rapidissimamente ricordarvi il nostro principale canale di comunicazione dell'Europe Direct Roma Innovazione che è il focuswebeuropa.formez.it sul quale trovate appunto tutta una serie di informazioni, di aggiornamenti, di segnalazioni rispetto a iniziative o opportunità europee. Vi segnaliamo in particolare la sezione newsletter che vedete qui in alto a destra cerchiata di rosso dove potete scaricare i precedenti numeri delle nostre newsletter mensili, che sono un'occasione per restare aggiornati, ma anche per ricevere tutte le segnalazioni sui principali eventi di rilievo, non solo organizzati da noi, ma anche di possibile interesse per tutti i nostri utenti. Coloro che non fossero già registrati alla newsletter, li invitiamo a cliccare su questo link giù in basso, sempre cerchiato, iscriviti alla nostra newsletter. Se voi cliccate e vi registrate direttamente alla nostra newsletter, la riceverete costantemente e mensilmente, ma avrete anche modo di essere invitati, di ricevere gli inviti alle altre attività che realizzeremo nei prossimi mesi. Vi ricordiamo anche il nostro canale YouTube su cui potete visionare e rivedere tutti i materiali e i documenti video e le registrazioni delle nostre attività, quindi un ulteriore canale per restare informati. Sempre sul canale, dal canale europa.formez.it, si accede anche a quello programmicomunitari.formez.it, vedete qui che c'è su Europa, trovate il link alla banca dati dei finanziamenti diretti, quelli di cui a breve vi parlerà, vi presenterà la collega Claudia Salvi. Quindi cliccando direttamente sui programmi comunitario del periodo 14-20 o ancora più su quello 21-27, trovate tutti gli aggiornamenti. Questo ribadisco è un lavoro titanico che fa la collega Claudia Salvi, vedete che molti dei programmi sono stati aggiornati, sono stati approvati, quindi non sono più in proposta. Cliccando su diversi link dei programmi trovate una presentazione degli stessi e soprattutto il link a tutti i documenti ufficiali istitutivi del programma in questione, oltre a una serie di riferimenti anche rispetto ai punti di contatto nazionali. Quindi è una banca dati assolutamente di grande utilità che vi invitiamo a consultare. È collegata a questa banca dati programmi comunitari, c'è un'altra banca dati che è lo scadenzario dei bandi, altro lavoro titanico che fa egregiamente la collega Claudia Salvi, che aggiorna quasi in tempo reale, nei limiti del possibile, appunto tutti i bandi che vengono pubblicati e questo è un servizio di grandissima utilità per tutti voi. Vi ricordiamo che il nostro sportello al pubblico in questo periodo è stato riorientato online, quindi noi siamo sempre a disposizione per rispondere alle vostre richieste richiedimento, ai vostri requisiti e quant'altro. Ci dovreste però contattare via mail, alla mail europedirect.it e laddove è possibile vi rispondiamo via mail, altrimenti concordiamo un appuntamento e vi riceviamo online su questa piattaforma. Vi ricordiamo ancora di nuovo il nostro canale YouTube che è stato recentemente creato, in cui stiamo appunto raccogliendo tutto il materiale che divulghiamo, che produciamo, è il nostro account Twitter. Questi sono i nostri contatti, noi restiamo sempre a vostra disposizione e ora inviterei il professor Massimiliano Montini dello Europe Direct dell'Università Attivo presso l'Università di Siena, se vuole attivare la webcam, così introduce. Ecco professor Montini, a lei la parola. Grazie. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, grazie alla dottoressa Scordino per questa introduzione al seminario di oggi e per queste informazioni generali. Ormai la maggior parte dei nostri fedeli partecipanti a questa nostra serie di lezioni d'Europa sono ben, penso, informati su tutta la struttura del nostro programma, che quest'anno è stato particolarmente lungo e fatto di varie parti, come avete visto. È stato un anno importante e complesso per molti motivi, adesso siamo alle ultime due lezioni del nostro programma del 2021, come abbiamo detto. Quest'anno si è svolto tutto in forma di webinar, ma diciamo poi ci direte voi, i partecipanti, quali sono i vostri commenti, ma penso che tutto sommato si possa essere soddisfatti della partecipazione e di essere riusciti comunque, malgrado le difficoltà di questo anno, a coprire così tanti argomenti, ad avere anche sempre una partecipazione molto elevata e molto vissuta direi anche da quello che si può capire dai vostri commenti, dai vostri feedback, dei quali colgo l'occasione per ringraziare tutti i partecipanti che hanno seguito i nostri webinar durante tutto l'anno. Come dicevo siamo agli ultimi due eventi, quello di oggi, sui finanziamenti europei diretti 2021-2027, entrambi questi due appuntamenti, quello di oggi 8 giugno e quello della settimana prossima 15 giugno saranno coordinati dalla dottoressa Claudia Salvi che come è stato già ricordato nell'introduzione è una super esperta di questa materia, coordina la gestione del sito molto ben fatto del Formez che vi dà l'accesso al quadro di riferimento in tutti i finanziamenti europei, quindi oggi ci sarà una introduzione dedicata ai finanziamenti europei diretti, mentre poi nella lezione della settimana prossima ci sarà più un riferimento proprio alla progettazione e quindi come si può strutturare un progetto per accedere a questi finanziamenti. Quindi speriamo anche oggi e in queste ultime lezioni di riuscire a fare un servizio, tradizionalmente è sempre stata prevista questa parte conclusiva dei nostri corsi lezioni d'Europa nel corso degli anni dedicata ai finanziamenti, quest'anno siamo felici di poterci avvalere della competenza come detto della dottoressa Salvi che su questa materia è sicuramente molto molto esperta. Io in questa breve introduzione vorrei ancora una volta ricordare che quest'anno l'edizione 2021 di Lezioni d'Europa è stata possibile grazie alla collaborazione, al partenariato fra l'Università di Siena che io rappresento, quindi lo Europe Direct Siena che io qui rappresento come responsabile scientifico appunto dello Europe Direct di Siena in collaborazione con la Europe Direct Roma Innovazione e quindi la dottoressa Salvi e la dottoressa Scordino che avete visto nel caso della dottoressa Scordino e che vedrete tra un attimo nel caso della dottoressa Salvi che seguono questo programma per conto di Europe Direct Roma Innovazione e poi il terzo partner del nostro gruppo di lavoro è la Europe Direct Trapani e il Consorzio Universitario della provincia di Trapani che è rappresentato dalla dottoressa Marta Ferrantelli che diciamo della quale vi porto i saluti e che è sempre è presente qui al seminario ma diciamo abbiamo concordato che il mio saluto sia generale a nome di tutto il gruppo e quindi ringrazio davvero le colleghe che stanno lavorando e che hanno lavorato ancora una volta mi fa piacere ringraziarle che hanno lavorato per questa edizione 2021 e poi naturalmente la dottoressa Campriano e la dottoressa Masti dell'Università di Siena e quindi a questo punto io senza ulteriori indugi lascerei la parola alla dottoressa Salvi che ringrazio ancora una volta della sua disponibilità e che sicuramente ci consentirà di iniziare a entrare nell'ambito dei finanziamenti diretti è particolarmente importante quest'anno perché ormai ha preso avvio la nuova programmazione 2021-2027 quindi è il momento per tutti di capire meglio come sono strutturati i progetti cosa c'è di nuovo cosa invece è rimasto rispetto alla precedente programmazione quali sono le novità e quindi tutti siamo in attesa di saperne di più grazie alla dottoressa Salvi e alla quale passo la parola grazie a te massimiliano per questa introduzione volevo solo fare una piccola precisazione oggi è l'ultima giornata che fate con me perché in realtà poi il 15 giugno sarete con Raffaella Scordino perché nel settore della progettazione chi va veramente forte è Raffaella tenete presente che quando lavoravamo all'ufficio attività internazionali con Raffaella diciamo che delle proposte presentate tutte quelle che venivano presentate da Raffaella Scordino avevamo poi il piacere di vedercele aggiudicate quindi abbiamo pensato che forse era lei l'esperto più adatto a parlarvi di progettazione oggi come anticipava già il professor Montini parleremo degli strumenti a finanziamento diretto abbiamo pochissimo tempo e i finanziamenti sono tanti quindi scenderemo un po' velocemente però non preoccupatevi perché nel nostro piano di azione noi abbiamo previsto di organizzare delle giornate informative specifiche su gruppi di finanziamenti diretti quindi ci ritorneremo su questi argomenti e un'altra precisazione che volevo fare se tra di voi c'è qualche ente locale interessato diciamo quando sarà finita l'emergenza pandemia ad ospitare qualche giornata informativa su questi temi se cortesemente ci inviate una mail e noi valuteremo se poter organizzare anche qualche giornata in presenza come abbiamo fatto semilmente con il comune di Tivoli negli scorsi anni e che ci riproponiamo di organizzare nei prossimi mesi però chiaramente dobbiamo un attimo vedere come evolverà la situazione del covid. Quindi oggi parliamo del gruppo dei finanziamenti a gestione diretta che lo ricardiamo sono quei finanziamenti che partono da Bruxelles che vengono gestiti direttamente tra la Commissione Europea e i partner del progetto. Questo gruppo di finanziamenti viene suddivisa a sua volta in due gruppi che sono i programmi a finanziamento diretto che sono quelli che valgono per tutta l'Unione Europea ma che sono aperti anche alla partecipazione di altri paesi e poi vedremo quali e poi abbiamo un altro gruppo che si chiama possiamo fargli entrare nel gruppo dell'assistenza esterna che sono quei finanziamenti che consentono all'Unione Europea di andare a lavorare con i paesi che sono al di fuori dell'Unione Europea. Per un problema di tempo oggi non affronteremo i finanziamenti dedicati all'assistenza esterna. Eventualmente possiamo pensare nel corso dell'anno di organizzare una giornata informativa esclusivamente dedicata all'assistenza esterna. Oggi non ce l'avremmo fatti perché sono tanti. Quindi cominciamo con quello più famoso che è il programma Erasmus Plus che ancora una volta è stato riconfermato e che presenta però delle novità. Innanzitutto lo stanziamento attuale è di 26 miliardi di euro. Il programma è stato già approvato. Per noi l'approvazione significa pubblicazione in gazzetta ufficiale dell'Unione Europea. Nelle schede programmi comunitari del nostro sito potete trovare poi tutti i documenti e link di approfondimento relativi agli singoli strumenti finanziari che vi presenteremo stamattina. Quindi con questo nuovo budget quello che si prevede è un aumento del numero di beneficiari che dovrebbe arrivare a sostenere fino a 12 milioni di persone nel prossimo periodo di programmazione che si calcola dovrebbe essere quasi il triplo rispetto all'attuale periodo o meglio attuale periodo nel periodo che si è appena concluso nel 2020. Un'altra delle previsioni del programma è che dovrebbe arrivare ad includere le persone di tutte le estrazioni sociali. Quindi particolare attenzione verrà prestata alle persone che provengono da contesti svanteggiati. In più un altro obiettivo è quello di costruire delle relazioni più forti con il resto del mondo cercando di favorire quanto più possibile la mobilità e la cooperazione fisica e virtuale con i paesi terzi. In più ci sarà la promozione di campi di studio orientati al futuro quali le energie rinnovabili, i cambiamenti climatici, l'ingegneria ambientale e l'intelligenza artificiale. Anzi a questo proposito vi volevo dire che tra le azioni che intendiamo promuovere quest'anno è di organizzare proprio un ciclo di webinar dedicati all'intelligenza artificiale perché è un tema molto caldo in quanto l'intelligenza artificiale così come l'innovazione digitale in generale in realtà coinvolge un po' tutti i settori. Quindi il nuovo Erasmus Plus è considerato un programma più inclusivo, avrà molta più attenzione al settore del digitale ma principalmente dovrà essere anche più verde, quindi più attento ai problemi ambientali. Un'altra novità del programma è il rafforzamento di questa iniziativa che si chiama Discovery U che offre la possibilità ai giovani di scoprire il patrimonio culturale dell'Europa e la sua diversità attraverso un'esperienza di viaggio. Quindi i giovani potranno attraverso questa esperienza di viaggio che dovrà essere effettuata principalmente attraverso strumenti di trasporto green, quindi per esempio dando preferenze al treno piuttosto che l'aereo, avranno la possibilità di girare per il mondo e quindi di visitare l'Europa. Sono previste due tornate di presentazione delle candidature annuali. Inoltre sempre il programma darà il sostegno a nuove iniziative faro quali le università europee, le accademie degli insegnanti Erasmus e anche i centri di eccellenza professionale. I tre sono gli obiettivi specifici del programma, la mobilità degli individui ai fini dell'apprendimento, la mobilità dell'apprendimento non formale, la mobilità ai fini dell'apprendimento degli allenatori e del personale sportivo, perché l'obiettivo invece generale del programma è quello di sostenere lo sviluppo formativo, professionale e personale degli individui nel campo dell'istruzione e della formazione, ma anche della gioventù e dello sport, sia in Europa che nel resto del mondo. In questo modo il programma dovrebbe contribuire alla crescita sostenibile, a favorire l'occupazione e la coesione territoriale, come pure a promuovere sempre di più quel senso di identità europea. Gli obiettivi con il budget che viene assegnato al programma dovrebbe essere più efficace nel sostenere alcuni obiettivi politici fondamentali, che sono la costruzione entro il 2025 di uno spazio europeo dell'istruzione, offrire maggiori opportunità di studio e di mobilità per i giovani e, come dicevo prima, promuovere un'identità europea. E questo avverrà attraverso politiche a favore dei giovani, dell'istruzione e della cultura. Prevede tre tipi di azioni il programma. Un'azione 1 che è appunto la mobilità ai fini dell'apprendimento, un'azione 2 che invece prevede la cooperazione tra istituti di istruzione e formazione professionale e un'azione 3 che invece si occupa del sostegno allo sviluppo delle politiche e quindi alla cooperazione in materia di politica e di istruzione e di gioventù. Per tutte le azioni sono previsti tre settori chiavi, che sono quelli dell'istruzione e della formazione della gioventù e dello sport. Per quanto riguarda la mobilità ai fini dell'apprendimento, è prevista la mobilità degli studenti, dei discenti e degli alunni, ma anche la mobilità del personale che si occupa di istruzione degli adulti. In più ci saranno le opportunità di apprendimento linguistico, comprese quelle che sono a sostegno delle attività di mobilità. Per quanto riguarda la gioventù, è prevista la mobilità dei giovani, le attività di partecipazione dei giovani, anche in questa azione gioventù è prevista questa iniziativa di cui vi parlavo di scovere io, così come è prevista la mobilità degli animatori giovanili. In più nell'azione dello sport è prevista la mobilità degli allenatori e del personale sportivo nell'ambito di questa azione chiave. Per quanto riguarda l'azione 2, appunto che si occupa di cooperazione tra istituti di formazione e istruzione professionale, per quanto riguarda l'istruzione e la formazione sono previsti partenariati per la cooperazione e lo scambio di buone prassi. In più sono previsti partenariati per l'eccellenza, in particolare tra le università europee, i centri di eccellenza professionale e i master congiunti. In più sono previsti i partenariati per l'innovazione per rafforzare la capacità di innovazione europea, in più sono previsti anche il sostegno alle piattaforme online e gli strumenti per la cooperazione virtuale, comprese i servizi di supporto per l'e-tweening, che è questa piattaforma elettronica che viene utilizzata per l'apprendimento degli adulti in Europa. Per quanto riguarda il settore della gioventù sono previsti i partenariati per la cooperazione e lo scambio di buone prassi, quelli per l'innovazione e per il rafforzamento della capacità di innovazione in Europa e anche in questo caso è previsto il sostegno a piattaforme online e anche agli strumenti per la cooperazione virtuale tra i vari istituti che fanno parte del partenariato dei progetti. In più anche in questo caso abbiamo un'azione per lo sport dove si prevedono i partenariati per la cooperazione e lo scambio di buone prassi, il sostegno a eventi sportivi senza scopo di lucro e che quindi devono sviluppare ulteriormente la dimensione europea dello sport. Quindi non si possono organizzare, per farvi capire, tornei di calcio di serie, ma bisogna optare per iniziative che favoriscono appunto lo sport amatoriale e che principalmente abbiano anche una componente attenta al settore del sociale. Per quanto riguarda il sostegno allo sviluppo delle politiche e la cooperazione, per quanto riguarda l'istruzione e la formazione abbiamo la preparazione e l'attuazione delle agenti politiche generali e settoriali dell'Unione Europea, il sostegno agli strumenti e alle misure che promuovano la qualità, la trasparenza e il riconoscimento delle competenze, viene favorito il dialogo politico e la cooperazione con i portatori di interesse chiavi che poi rappresentano sia le reti a livello dell'Unione Europea che le ONG europee, le organizzazioni internazionali che comunque si occupano di istruzione e formazione e anche tutte quelle misure che devono contribuire all'attuazione qualitativa e inclusiva del programma. In più è prevista la cooperazione con altri strumenti e diciamo anche una particolare attenzione a tutte quelle che sono le attività di diffusione e sensibilizzazione sulle priorità e sui risultati delle politiche europee raggiunti in questi settori ma anche sul programma in se stesso. Anche qui per quanto riguarda la gioventù avremo la preparazione e l'attuazione dell'agenda politica dell'UE in materia di gioventù con il sostegno a quella che alla rete Youth Wiki che dovrebbe diventare una sorta di enciclopedia delle politiche giovani di Europa nazionale. In più viene dato sostegno agli strumenti e alle misure dell'UE che promuovano la qualità, la trasparenza e il riconoscimento delle competenze e delle abilità, in particolare lo Youth Pass. Ci sarà un rafforzamento politico e la cooperazione con i portatori di interesse chiave, così analogamente a quello che accadrà nell'azione relativa all'istruzione e alla formazione e anche alle misure che contribuiscono all'attuazione qualitativa e inclusiva del programma, così come la cooperazione con altri strumenti dell'UE e anche il sostegno ad altre politiche sempre in questo settore. Anche in questo caso, a particolare attenzione, verrà prestata a tutte quelle che sono le azioni di diffusione e sensibilizzazione su questi temi. Per quanto riguarda lo sport, avremo la preparazione e l'attuazione dell'agenda politica dell'UE nel settore dello sport e dell'attività fisica, verrà sostenuto il dialogo politico e la cooperazione con i portatori di interesse chiare come le ONG e le organizzazioni internazionali che operano nel settore dello sport e anche in questo caso verranno sostenute tutte quelle attività di diffusione e sensibilizzazione sulle priorità e sugli obiettivi che verranno raggiunti nel settore dello sport. Come sempre saranno riconfermate le azioni Jean Monnet, che sono appunto quelle azioni che sostengono l'insegnamento, l'apprendimento e la ricerca e i dibattiti in materia di integrazione europea e prevederanno variazioni, che sono le azioni Jean Monnet nel campo dell'istruzione superiore, nell'ambito dell'istruzione e della formazione, così come le azioni Jean Monnet potrà provvedere anche il sostegno ad alcune istituzioni che perseguono finalità di interesse europee e tra questi abbiamo l'Istituto Universitario Europeo di Firenze, il Collegio d'Europa, l'Istituto Europeo di Pubblica Amministrazione, il cosiddetto EIPA, l'Accademia di Diritto Europeo di Trevili, l'Agenda Europea per i Bisogni Educativi Speciali e l'Istruzione Inclusiva che ha sede a Odense e anche il Centro Internazionale di Formazione Europea che ha sede a Nizza. Il programma è aperto a soggetti giuridici pubblici e privati attivi nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù e dello sport. Tenete presente che già sono aperti i primi bandi, infatti è stato già pubblicato l'invito a presentare proposte per l'annualità 2020-2021, così come è già disponibile la guida del programma in lingua italiana. Tutte queste informazioni le trovate nella nostra banca dati oppure al link che vi ho indicato. Altro programma molto importante è il Corpo Europeo di Solidarietà. Per la prima volta questa azione è diventata un programma vero e proprio. Prima era un'azione che era inclusa in altri programmi della Commissione Europea perché, faccio un esempio, per esempio per le azioni nel settore dell'ambiente veniva in parte cofinanziato dal programma Life, per le azioni nel settore dell'istruzione veniva in parte finanziato nell'ambito del programma Erasmus. Ora si è deciso di dare una sua dignità di programma a questa azione e quindi è partito con il nuovo periodo di programmazione questo nuovo Corpo Europeo di Solidarietà che sostiene i giovani che desiderano impegnarsi in attività di volontariato in una serie di ambiti e questi ambiti possono andare dall'aiuto a persone bisognose a sostegno all'azione a favore della salute dell'ambiente in tutta l'Unione Europea e non solo. La priorità di quest'anno la salute ha mobilitato i volontari per lavorare a progetti che hanno affrontato le sfide sanitarie, compreso l'impatto della pandemia di Covid-19 e il piano per la ripresa. Questo nuovo Corpo di Solidarietà sostiene inoltre le priorità politiche generali dell'Unione Europea e agevola l'intervento delle organizzazioni e dei giovani in questi ambiti. I filoni di attività in particolare sono in questo momento in auge e sono quattro e sono la promozione dell'inclusione della diversità, cercare di rendere più verdi i progetti e incoraggiare i comportamenti sostenibili sul piano ambientale e responsabili tra i partecipanti e le organizzazioni che vengono coinvolte. Altro punto importante per quest'anno sarà quello di sostenere la transizione digitale mediante progetti e attività che rafforzano le competenze digitali, cercando di promuovere quanto più possibile l'alfabetizzazione digitale e sviluppare la comprensione dei rischi e delle opportunità che possono derivare dall'utilizzo delle tecnologie digitali. In più il programma promuoverà la partecipazione dei giovani ai processi democratici e all'impegno civico. Oltre a queste quattro aree di intervento, il programma dispone anche della flessibilità di aggiungere delle priorità annuali per far fronte a quelle che possono essere considerate le misure più urgenti, come è stato per esempio per la salute in questo anno qui. I destinatari di questa azione devono avere un'età compresa tra i 17 e i 30 anni, i quali possono registrarsi al Corpo Europeo di Solidarietà attraverso il portale europeo per i giovani che vedete indicato nella slide. L'età minima per poter prendere parte a queste attività di volontariato è 18 anni. In più un'altra novità del programma per quest'anno è quella di la possibilità per i giovani di presentare progetti di solidarietà che permettono ai giovani di registrare e proporre e attuare idee di attività solidarie a livello locale, quindi di diventare loro stessi promotori di progetti senza dover aspettare l'offerta di un'opportunità da parte di un'altra organizzazione. Questo nuovo programma dovrebbe dare la possibilità ad almeno 350 mila giovani europei di fornire il sostegno alle comunità bisognose tra il 2021 e il 2027. Questo avverrà tramite tre azioni, che sono le attività di volontariato, la possibilità di effettuare tirocini oppure addirittura attraverso attività di insediamenti lavorativi. Inoltre prevede la creazione di un vero e proprio sportello unico per i giovani disposti a impegnarsi in attività di solidarietà dell'Unione Europea e nel resto del mondo ed inoltre assorbe un'altra iniziativa che diciamo era attuata nel periodo di programmazione precedente e che era l'iniziativa volontari europei per l'aggiuto umanitario. Le azioni previste sono i collocamenti di solidarietà che consentono ai giovani di svolgere attività di volontariato per un massimo di 12 mesi, i tirocini per un periodo che va da 2-6 mesi oppure attività lavorative in conformità alla legislazione vigente nel paese di accoglienza. I gruppi di volontariato invece permettono a gruppi di 10-40 giovani che provengono da diversi paesi di fare delle attività di volontariato insieme e questo può essere effettuato per un periodo che va dalle 2 settimane ai 2 mesi. Poi ci sono questi progetti di solidarietà che consentono a piccoli gruppi di almeno 5 partecipanti di creare e realizzare di propria iniziativa progetti di solidarietà a livello locale per un periodo che può andare dai 2 ai 12 mesi e più esistono poi le attività di rete. Queste contribuiscono ad attirare nuovi partecipanti al corpo europeo di solidarietà, permettere lo scambio di buone pratiche e anche fornire un sostegno post collocamento così come possono essere costituite reti di ex partecipanti. Per partecipare al corpo europeo di solidarietà le organizzazioni devono ottenere un marchio di qualità, atto a certificare che si svolgono attività di solidarietà di alta qualità nel rispetto dei principi, degli obiettivi e dei requisiti del programma. Quindi qualsiasi organismo pubblico privato può presentare una domanda di finanziamento. Questo chiaramente può avvenire attraverso l'ausilio delle agenzie nazionali del corpo europeo di solidarietà che troverete indicate nel portale per i giovani, quello che tra un po' vi faremo vedere, che hanno sede in tutti gli stati membri dell'Unione Europea e anche nei paesi terzi che però sono associati al programma. In questo caso i paesi terzi associati al programma sono l'Islanda, il Liechtenstein, la Rutturchia e la Repubblica di Macedonia del Nord. Inoltre, appunto come vi dicevo prima, i giovani devono registrarsi nel portale del corpo europeo di solidarietà e quindi possono presentare in questo modo direttamente le domande di finanziamento per progetti, diciamo, di loro invenzione. In più, affinché i partecipanti possano integrarsi meglio nel mercato del lavoro sarà incoraggiato il coinvolgimento attivo sia dei servizi per l'impiego pubblico e privati che delle camere di commercio. Anche in questo caso abbiamo degli bandi aperti, come vedete sono stati pubblicati già in gazzetta ufficiale il 15 aprile e ci sono delle scadenze che vanno al 5 ottobre, quindi c'è abbastanza tempo per poter presentare una proposta di progetto. Dopo che avrete seguito anche la giornata di Raffaella Scordino dedicata alla progettazione, vi potrete cimentare per presentare una proposta di progetto nell'ambito di questo programma. Ora abbiamo, per il nuovo periodo di programmazione, questo nuovo fondo che si chiama il Fondo Giustizia, Diritti e Valori. Questo in realtà comprende i due programmi del vecchio periodo di programmazione che erano i programmi Cittadinanza, Uguaglianza, Diritti e Valori e il programma Giustizia. Questi due programmi, così come li conoscevamo prima, nel nuovo, chiedo scusa, nel precedente periodo di programmazione avevamo Europa per i Cittadini e il programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza. Questi ora sono stati sostituiti da questo nuovo programma che si chiama Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori, così come continuerà ad esistere con la stessa denominazione anche il programma Giustizia che vedremo tra un poco. Questo nuovo programma ha come obiettivo quello di proteggere e promuovere i diritti e i valori sanciti nei trattati, nella Carta e delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani applicabili, in particolare cercando di sostenere le organizzazioni della società civile e gli altri portatori di interesse che operano a livello locale, regionale, nazionale e trasnazionale e cercando anche di incoraggiare quanto più possibile la partecipazione civica e democratica dei cittadini a quelle che sono tutte le attività dell'Unione Europea che appunto si basano sullo Stato di diritto. Il programma prevede quattro sezioni. Una sezione che si chiama appunto Valori dell'Unione che mira salvaguardare e promuovere quelli che sono tutti i valori in generale dell'Unione Europea. Poi abbiamo una sezione dedicata all'uguaglianza, diritto e parità di genere che promuove i diritti, la non discriminazione e l'uguaglianza, compresa la parità di genere e quindi cerca di promuovere l'integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche dell'Unione Europea. E poi abbiamo un'altra sezione che si occupa di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini che ha appunto questo obiettivo, quello di favorire la partecipazione alla vita democratica da parte dei cittadini europei. Ed inoltre viene riconfermata la sezione DAFNE già presente nel periodo di programmazione precedente che si occupa di contrastare in generale la violenza compresa quella di genere, quindi la violenza principalmente sui minori ma in particolar modo anche quella di genere. Le attività che possono essere finanziate nell'ambito di questo programma sono varie. Abbiamo sia attività di sensibilizzazione e formazione per migliorare in generale la conoscenza delle politiche e dei diritti nei settori interessati del programma, ma possono essere anche finanziate attività di apprendimento reciproco tra i soggetti interessati per cercare di migliorare quanto più possibile la conoscenza su questi temi, così come possono essere finanziate attività di analisi e di monitoraggio per cercare di capire qual è la situazione a livello dell'Unione Europea relativamente alla tutela dei diritti. In più può essere dato il sostegno alle organizzazioni della società civile per cercare di promuovere e agevolare la partecipazione attiva, cercando di creare un'unione che sia quanto più partecipativa e democratica ed in più può essere dato il sostegno allo sviluppo delle capacità delle reti europee che si occupano di queste tematiche. Beneficiari possono essere le organizzazioni non governative, gli organismi che si occupano di pali opportunità, chiaramente le amministrazioni pubbliche, le reti giudiziarie ma anche le università. Anche in questo caso abbiamo moltissimi bandi aperti perché sono stati pubblicati da poco e come vedete anche in questo caso abbiamo delle scadenze abbastanza di ampio respiro. Così come nel precedente periodo di programmazione nell'ambito del programma Europa per i cittadini esiste un invito a presentare proposte che si occupa proprio di memoria europea per cercare di recuperare quello che è il passato dell'Unione Europea ai fini di insegnamento per quello che è il futuro e questa scadenza è prevista per il 22 giugno. In più come vedete sono previsti anche il sostegno alle reti europee e le organizzazioni della società civile. Vi ricordate quando avevamo parlato nella puntata precedente dei vari tipi di finanziamento che può concedere l'Unione Europea avevamo parlato sì di invichi a presentare proposte ma avevamo anche parlato di sovvenzioni che vengono date alle organizzazioni che si occupano di tematiche di interesse per l'Unione Europea e questo bando in realtà rientra tra questa categoria cioè le sovvenzioni a soggetti che si occupano di queste tematiche. In più come vedete il bando prevedono anche le reti di città oppure i gemellaggi tra le città che erano tutte le azioni tipiche del programma del vecchio periodo di programmazione Europa per i cittadini. Quindi in realtà non sono scomparse ma sono state integrate nell'ambito di questo nuovo programma. Altro programma molto importante almeno specialmente per l'Italia è proprio Europa creativa perché l'Italia utilizza moltissimo questo strumento finanziario forse anche a causa della grossa presenza di società che si occupano del settore culturale anche grazie alla presenza di un vasto patrimonio culturale che consente questo tipo di attività. Questo programma Europa creativa definisce quelli che sono gli obiettivi comuni per i settori culturali e creativi. Per il 2021 pone maggiormente l'accento sulla creazione transnazionale e sulla circolazione globale sulla promozione delle opere europee, l'innovazione transettoriale, la facilità di accesso e finanziamenti attraverso tassi di cofinanziamento dell'Unione Europea che sono più elevati rispetto al periodo di programmazione precedente. In particolare questo programma prevede tre sottoprogrammi. Il sottoprogramma cultura che si occupa dei settori culturali e creativi, il sottoprogramma media che diciamo si occupa di tutto ciò che riguarda l'audiovisivo e la componente transettoriale che riguarda le attività in tutti i settori culturali e creativi. Tra le azioni che rientrano nel programma Europa creativa si annoverano un regime di sostegno alla traduzione delle opere letterali e anche allo sviluppo di partenariati editoriali, questo in particolare nell'ambito del sottoprogramma cultura. Sono previsti tra l'altro i premi dell'Unione Europea che vi ricordate sempre nel webinar precedente ne avevamo parlato e questo è un altro tipo di finanziamento che può concedere l'Unione Europea nell'ambito di questi strumenti finanziari europei, quindi l'istituzione di premi. Nel caso di Europa creativa i premi riguardano la letteratura, la musica, l'architettura e il patrimonio culturale, nonché inoltre ci sono alcune iniziativi quali sono le capitali europee della cultura e il marchio del patrimonio europeo. Inoltre viene dato il rafforzamento all'accessibilità e alla visibilità delle opere audiovisive europee al di là delle piattaforme delle frontiere e questo avviene tramite il sottoprogramma media e in più può dare il sostegno nel laboratorio per l'innovazione creativa che incoraggia gli approcci innovativi alla creazione, all'accesso, alla distribuzione e alla promozione di contenuti in diversi settori. E in più, e questa è la vera diciamo novità del programma, si occuperà di promozione dell'alfabetizzazione mediatica, del pluralismo e anche della libertà come valori europei. E diciamo questa è un po' la vera novità di questo programma. Anche in questo caso qui abbiamo sia un bando aperto per l'invito a manifestare interesse per la creazione di un pool di esperti che dovranno andare a valutare il programma, in particolare l'azione capitale europea della cultura. Però vi devo dire, ma non ho fatto il tempo ad inserirla in queste slide, sono stati già aperti i bandi per quanto riguarda la sezione del programma media. Sono stati pubblicati la scorsa settimana, quindi c'è ancora un tempo abbastanza lungo per poter presentare diciamo delle proposte di progetto. Una cosa che ho dimenticato di dirvi, tutti questi strumenti finanziari diretti sono chiaramente aperti alla partecipazione degli stati membri dell'Unione Europea. Però in realtà molti di loro sono aperti anche a paesi che sono al di là delle frontiere dell'Unione Europea. In questo caso in genere i paesi che sono messi a partecipare sono tutti i paesi che appartengono ai cosiddetti paesi della preadesione, ai paesi che rientrano nel gruppo della politica di vicinato dell'Unione Europea e a volte anche altri paesi che possono essere interessati al programma, che anche se non fanno parte dell'Unione Europea o che non fanno parte del gruppo di questi paesi, ma attraverso la loro partecipazione possono dare un contributo rilevante per il programma. Quindi però prima di coinvolgere questi paesi che non sono proprio stati membri dell'Unione Europea dovete verificare con la Commissione Europea se questi paesi hanno firmato con l'Unione Europea nel frattempo un memorandum of understanding che gli dà la possibilità di partecipare a pieno titolo alle azioni di questi programmi. Altro programma importante dell'Unione Europea è il programma LIFE. Il programma LIFE è un programma che esiste da moltissimi anni sempre con questo nome, è stato riconfermato nuovamente per il periodo 2021-2027, anche se è stato proposto un budget rafforzato, in questo caso di 5.432 miliardi di euro, in quanto la Commissione Europea ha integrato l'azione per il clima in tutti i grandi programmi di spesa dell'Unione Europea. Quindi parliamo sia della politica di coesione ma anche di altri strumenti finanziari diretti, quali possono essere Horizon Europe, oppure il meccanismo per collegare l'Europa e così via. Quindi per onorare all'Accordo di Parigi l'impegno di realizzare questi obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, la Commissione ha proposto che il finanziamento a favore del clima deve diventare una voce di spesa ancora più consistente in tutti i programmi dell'Unione e quindi destinando almeno il 25% dell'ospesa dell'Unione Europea al conseguimento degli obiettivi climatici. Quali sono gli obiettivi del programma? Da una parte è quello di contribuire al passaggio a un'economia pulita, circolare, efficiente in termini di energia, bassa emissione di carbonio e quindi anche più residente ai cambiamenti. Il secondo obiettivo è quello di contribuire alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente, all'interruzione e all'inversione del processo di perdita della biodiversità, in modo da poter favorire quanto più possibile lo sviluppo sostenibile. Le principali caratteristiche del nuovo programma è che ci sarà un maggiore accento sull'energia pulita e anche sulla tutela della natura, in particolare sulla tutela della biodiversità. Verrà dato ancora il sostegno all'economia circolare e alla mitigazione dei cambiamenti climatici, così quanto avveniva analogamente nel precedente periodo di programmazione ed in più un nuovo programma dovrebbe essere più semplice e più flessibile per cercare di allargare la base geografica di accesso al programma. Quindi si concentrerà sempre più sullo sviluppo e attuazioni di soluzioni innovative per cercare di rispondere in maniera sempre più precisa a quelle che sono le sfide ambientali e climatiche. Prevede due sottoprogrammi, un sottoprogramma ambiente che in realtà avrà due azioni, una azione che si occupa proprio di natura e tutela della biodiversità e una seconda azione che invece si occuperà in particolare di economia circolare e di qualità della vita. In più ci sarà ancora una volta un sottoprogramma dedicato interamente alle azioni per il clima, dove poi ci saranno due sotto azioni che sono una mitigazione adattamente ai cambiamenti climatici e una seconda sotto azione che invece si occuperà di transizione all'energia pulita. L'azione natura biodiversità continuerà inoltre a sostenere progetti di azione tradizionali volti a sviluppare, applicare e promuovere quelle che sono le migliori prassi esistenti in Europa e in più verranno finanziati anche dei nuovi progetti strategici per la natura, i cosiddetti progetti SNAP in tutti gli Stati membri, perché questi dovrebbero contribuire a integrare gli obiettivi di natura e biodiversità nelle altre politiche e programmi di finanziamento previsti dall'Unione Europea, come l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Quindi questi progetti strategici per la natura in realtà andranno a sostituire quelli che noi conoscevamo come progetti integrati presenti nel precedente periodo di programmazione. Possono partecipare al programma i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro oppure in un paese o territorio d'ultremare che comunque è connesso in qualche modo allo Stato membro, i paesi terzi che sono associati al programma e altri paesi terzi che sono elencati nel programma di lavoro, così come possono partecipare i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione Europea oppure le organizzazioni internazionali. Un altro strumento che è stato definitivamente adottato dall'Unione Europea, avevo dimenticato di dirvi a inizio presentazione che quando sulle slide vedete questo pallino verde vuol dire che il programma è stato approvato ed esiste già appunto il documento è stato già pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell'Unione Europea serie L che è appunto la gazzetta dedicata alla legislazione e che quindi contiene sia le decisioni di adozione dei programmi oppure i regolamenti di adozione di questi strumenti finanziari. Il meccanismo unionale di protezione civile subentra al precedente meccanismo unionale di protezione civile, quindi è stato pubblicato il regolamento che in qualche modo lo ha revisionato. Si tratta di una riserva di risorse che vengono utilizzate nel caso in cui gli Stati membri non riescono a far fronte alle catastrofe da soli e quindi chiedono all'Unione Europea di intervenire per ricevere un'assistenza supplementare che deve essere poi chiaramente apportata in tempi molto rapidi. Quindi l'elemento chiave di questo programma è quello di costituire una riserva europea di capacità di protezione di cui possono far parte gli aerei antincendio che vengono messi a disposizione da parte dei singoli paesi europei, le attrezzature di pompaggio ad alta e elevata capacità per le inondazioni, le capacità di ricerca e di soccorso in ambito urbano che possono per esempio essere utilizzate in occasione di terremoti o di altre calamità naturali, in più anche la fornitura di ospedali da campo e assistenza medica di emergenza. In questo caso per esempio questa linea qui è stata utilizzata in occasione dell'emergenza Covid. Sono due gli ambiti di azione previsti dal programma, quello di rafforzare le capacità di risposta dell'Unione Europea nel momento in cui si verificano delle catastrofi, ma anche lavorare un po' su tutte quelle che sono le azioni di prevenzione e di preparazione alle catastrofi. Non subentro diciamo nel dettaglio perché forse questo programma vi può interessare come utilizzatori, ma non proprio come soggetti attivi. Questo giusto per capire come funziona. Nel momento in cui si verifica un allarme, nella fase 1 lo Stato membro decide di attivare il meccanismo di protezione civile per chiedere aiuto. Nella fase 2 il centro di coordinamento della risposta alle emergenze che ha in sedia a Bruxelles riceve la richiesta di assistenza e quindi allerta tutti gli Stati membri che fanno parte del meccanismo sullo stato di allerta che si è verificato. Nella fase 3 se le capacità del pool europeo di protezione civile non risultano che non sono sufficienti per agire a quella catastrofe precisa, la Commissione allora può chiedere di mobilitare le proprie capacità RESC-EU per sostenere le azioni degli Stati membri che ne hanno fatto richiesta. Una volta che viene individuato il sostegno richiesto viene inviato al Paese che è stato colpito dalla catastrofe. La Commissione europea chiaramente esercita un controllo operativo su quelle che sono le risorse di RESC-EU, ma il Paese interessato che quindi le ospita deve poi garantire che le attività relative alle capacità di RESC-EU siano attuate conformemente alle modalità di mobilitazione concordate con la Commissione europea. Il meccanismo prevede il rafforzamento e il più facile coordinamento tra le azioni dei Paesi aderenti che sono sia i 27 Stati membri dell'Unione europea, ma partecipano al meccanismo anche l'Islanda, la Norvegia, la Serbia, l'ex Repubblica Jugoslava e di Macedonia, il Mottenegro e la Turchia che probabilmente hanno deciso di aderire al meccanismo per garantire anche una maggiore protezione sui propri territori. Anche in questo caso qui abbiamo dei bandi scadenza, il primo, quello più recente, scade ad agosto per arrivare poi, no non più recente, in realtà vedo che ci sono delle scadenze anche a giugno oggi, quindi va bene, quindi queste qui ormai non sono più disponibili, però abbiamo ancora una scadenza per il primo agosto. Altro programma molto importante, però da tenere presente è che questo è un programma che finanzia essenzialmente infrastrutture e meccanismo per collegare l'Europa. Anche questo è stato nuovamente confermato per il periodo 2021-2027, ha una dotazione di 42,3 miliardi di euro e finanzia essenzialmente, come vi dicevo prima, infrastrutture ad alta efficienza per collegare meglio i cittadini europei nei tre settori chiavi, che sono quelle dei trasporti per assicurare una mobilità sicura, pulita e sempre più connessa nel settore dell'energia, che quindi finanzia tutte quelle che sono le reti nel settore dell'energia che devono diventare col tempo sempre più accessibili, sicure e sostenibili, e in più finanzia le infrastrutture nel settore del digitale, quindi tutto quello che è la rete a banda larga ad alta capacità. Gli obiettivi del meccanismo per collegare l'Europa è quello di integrare meglio i settori dei trasporti, dell'energia e del digitale per cercare di accelerare quanto più possibile quel processo di decarbonizzazione, di digitalizzazione dell'economia dell'Unione Europea. Settori come la mobilità pulita ed elettrica richiedono una stretta integrazione tra settori sia dei trasporti che dell'energia, ma altri esempi di questi possono essere quelli della mobilità autonoma, dello stoccaggio dell'energia e delle reti intelligenti. Altro obiettivo è quello di sviluppare e modernizzare queste reti transeuropee nei settori dei trasporti dell'energia e del digitale, ma anche quello di agevolare la cooperazione trasfrontaliera nell'ambito dell'energia rinnovabile, tenendo conto degli impegni di decarbonizzazione a lungo termine che si è data all'Unione Europea e quindi pone sempre più l'accento su quelle che sono le sinergie tra i vari settori. Un'altra cosa che ho dimenticato di dirvi all'inizio, ma diciamo ve la sottolineo ora, che questa in genere è una premessa che faccio sempre ad inizio di giornata, di non essere mio appena il momento in cui andate a utilizzare questi finanziamenti diretti. Perché, come vi dicevo, a volte nelle linee si nascondono delle interrelazioni anche con altri argomenti. Quindi, per esempio, se io sto presentando un progetto nei settori della formazione, non è detto che sia sempre il programma Erasmus, quello più adatto a fornire quel tipo di finanziamento, ma per esempio potrebbe essere il programma Europa Digitale se il progetto ha un contenuto fortemente concentrato sull'innovazione digitale. Quindi il mio invito qual è? State sempre attenti a identificare bene qual è la linea di finanziamento che andate a utilizzare sulla base della vostra idea progettuale, ma non di fare il contrario, come spesso da noi accade, perché abbiamo molti utenti che vengono da noi chiedendo di poter presentare un progetto nell'ambito del bundle life senza che abbiano in mente una vera proposta. Dobbiamo cercare di capovolgere il problema, cioè noi presentiamo una proposta di progetto e solo dopo andiamo a cercare la linea di finanziamento che meglio si adatta a quella proposta di progetto, che non potrebbe, che non deve essere necessariamente quella che noi abbiamo in mente, quindi di guardarla di largo respiro. Ed è questo il motivo per cui noi stiamo facendo questa giornata introduttiva, per darvi tutta la panoramica di quello che è disponibile, così che poi dopo voi potete andare ad approfondire uno o più strumenti finanziari a secondo di quello del vostro interesse. La Commissione europea in realtà ha aumentato la dotazione finanziaria destinata a questo programma, assegnando 42,3 miliardi di euro a investimenti nelle reti infrastrutturali europei, di cui 30,60 miliardi per il settore dei trasporti, 8,7 miliardi per il settore dell'energia e 3 miliardi per il settore digitale. Così come quello che avevamo detto nel programma LIFE, la Commissione europea ha proposto anche di rafforzare la dimensione ambientale del meccanismo per collegare l'Europa. L'obiettivo finale è quello che la dimensione ambientale debba raggiungere il 60%, debba contribuire con il 60% della sua dotazione a quelli che sono gli obiettivi da raggiungere in materia di clima. Questo permette all'Unione europea di consolidare l'unione dell'energia, ma anche di mantenere quegli impegni che sono stati assunti dall'Unione europea nel quadro dell'Accordo di Parigi e quindi rafforzare la leadership dell'Europa a livello mondiale in quello che è considerata la lotta ai cambiamenti climatici. Per quanto riguarda le azioni, i trasporti deve contribuire allo sviluppo di progetti di interesse comune che riguardano le reti e le infrastrutture efficienti e interconnessi per una mobilità intelligente e sostenibile inclusiva e in più deve adeguare le reti TEN-TIL che sarebbero le reti di trasporto transeuropee alle esigenze anche della mobilità militare. L'azione Energia invece deve contribuire allo sviluppo di progetti di interesse comune che sono relativi all'ulteriore integrazione del mercato interno dell'energia e dell'interoperabilità trasfrontaliera intersettoriale delle reti, facilitare la decarbonizzazione e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. Altra azione è quella di agevolare la cooperazione trasfrontaliere in tema di energia rinnovabile. Per quanto riguarda invece il settore digitale, il programma deve contribuire allo sviluppo di reti ad altissima capacità e quindi in particolar modo di favorire sistemi 5G, di aumentare la resilienza e la capacità delle reti dorsali digitali sui territori dell'Unione Europea cercando di corrigarla anche ai territori limitrofi e in più si deve occupare di tutto ciò che riguarda la digitalizzazione delle reti dei trasporti e dell'energia. Però vi ripeto questo è un programma che più che altro va a finanziare le infrastrutture, quindi è un programma che prevede progetti di ampio respiro che diciamo quindi meno indicati per singoli enti locali o comunque piccole entità. Ora abbiamo il programma, uno dei più importanti dell'Unione Europea che trova Horizon Europe che ha come obiettivo quello di rafforzare l'eccellenza scientifica e tecnologica cercando di realizzare uno spazio di ricerca europeo. Quindi l'obiettivo di Horizon Europe è quello di promuovere la libera circolazione dei ricercatori, della conoscenza scientifica e della tecnologia per cercare di realizzare questo spazio europeo che deve essere sempre più competitivo per il raggiungimento di risultati più elevati sotto il profilo sociale, politico ed economico. Il budget complessivo destinato al programma è di 76,4 miliardi di euro che però in corso d'opera potrebbe essere aumentato perché il programma Horizon come sempre è aperto alla partecipazione tramite accordi che vengono poi definiti in corso d'opera di paesi che non fanno parte dell'Unione Europea. Vi faccio un esempio, uno dei paesi che partecipa regolarmente al programma Horizon Europe è Israele ma tra l'altro non è da escludere che potrebbe partecipare al programma il Regno Unito dopo la Brexit anche perché noi sappiamo che il Regno Unito era uno dei più grandi utilizzatori in particolare attraverso le università britanniche al programma Horizon Europe, quindi è probabile che il Regno Unito anche dopo la Brexit possa dimostrare interesse e continuare a partecipare al programma e in tal caso dovrà cofinanziare le azioni. Quindi questo nuovo programma dovrebbe consentire all'Unione Europea di rimanere all'avanguardia nel settore della ricerca e dell'innovazione a livello mondiale cercando di consolidare i risultati e il successo del programma precedente cercando di focalizzarsi sempre di più sulla competitività industriale dell'Unione Europea sostenendo l'innovazione e il mercato, per esempio attraverso lo sviluppo di prototipi, di beni materiali oppure il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie. I fondi che vengono stanziati nell'ambito di Horizon Europe sono gestiti centralmente quindi essenzialmente verrà utilizzato lo strumento delle sue invenzioni quindi dei grant che sono questi finanziamenti a fondo perduto però il programma può stanziare anche dei prestiti per aiutare le start-up e le imprese più innovative a sviluppare le loro idee. Così come è accaduto per Horizon 2020 che era il programma in essere nel precedente periodo di programmazione anche Horizon Europe sarà organizzato attorno a tre pilastri quello dell'eccellenza scientifica, quello delle sfide globali della competitività industriale europea e il pilastro di Europa innovativa. Un'altra notizia che voglio darvi relativamente a questo programma è che, chiedo scusa, per sbaglio vado un attimo indietro vi riporto ai tre pilastri, eccolo qui tra le novità che è presente il nuovo programma è quello di istituire un referente unico che è conosciuto come il Consiglio europeo per l'innovazione per portare dal laboratorio al mercato le innovazioni ad alto rischio ma che hanno forti potenzialità di aprire nuovi mercati quindi questo Consiglio europeo per l'innovazione dovrebbe contribuire a individuare e finanziare le innovazioni europee e offrire un sostegno diretto agli innovatori di eccellenza ma anche agli imprenditori e agli scienziati che hanno idee brillanti e ambiziose e quindi questo sarà possibile attraverso due strumenti di finanziamento che comprendono le fasi iniziali e in un secondo momento lo sviluppo e la diffusione sul mercato dei nuovi prodotti e per questi due strumenti sono già usciti anche i relativi bandi diciamo che il 70% della dotazione finanziaria di questo Consiglio europeo per l'innovazione sarà destinato alle piccole e medie imprese che potranno fare richiesta di sovvenzione tramite una misura aperta esclusivamente alle piccole e medie imprese compreso le start-up questa misura si chiamerà grant only support e riprende le principali caratteristiche che aveva lo strumento per le piccole e medie imprese che era previsto nell'Horizon 2020 ora per quanto riguarda i tre pilastri vediamo che l'eccellenza scientifica mira il rafforzamento e all'ampliamento dell'eccellenza scientifica dell'Unione Europea tramite l'European Research Council che appunto sostiene la ricerca di frontiera e un approccio bottom-up le cosiddette azioni Marie Curie che sono queste azioni che vanno a sostenere i ricercatori che vogliono sviluppare i propri progetti di ricerca o in un altro paese dove la ricerca è più avanzata rispetto alla nostra oppure che permette di ospitare ricercatori da quei paesi che non hanno fondi per poter svolgere le loro ricerche quindi per esempio anche da paesi terzi quindi per esempio anche dall'Africa e quindi vengono in Europa grazie all'azione Marie Curie per poter effettuare le loro ricerche e più viene dato il sostegno alla creazione di infrastrutture di ricerca a livello mondiale integrata e interconnesse poi abbiamo le sfide globali e la competitività industriale europea questo è il principale pilastro perché è quello che permette di finanziare progetti di ricerca e innovazione in tutti quelli che sono i principali obiettivi e priorità dell'Unione Europea e quindi parliamo di salute, cultura, sicurezza civile, digitale, clima, energia e mobilità, alimentazione, bioeconomia e così via e poi abbiamo appunto Europa Innovativa che prevede lo sviluppo di innovazioni pioneristiche come vi dicevo prima queste vengono finanziate tramite l'European Innovation Council l'European Innovation Ecosystems che in particolare si occupa di innovazioni nel settore degli ecosistemi e l'EIT che sarebbe lo European Institute of Innovation and Technology attraverso l'unione degli operatori fondamentali nel settore della ricerca e istruzione imprese attorno a un obiettivo comune che ha comunque come finalità quello di favorire l'innovazione come vi dicevo tra le principali novità abbiamo sia quello della semplificazione delle regole che dovrebbe rendere sempre più accessibile il nuovo programma così come vi dicevo c'è questa altra novità del Consiglio Europeo per l'Innovazione e i due strumenti che vengono messi a disposizione delle start-up sono appunto questo del Pathfinder che concede sovvenzioni per le fasi iniziali fino alla fase pre-commerciale e quello dell'Accelerator che invece concede sovvenzioni e finanziamenti misti per lo sviluppo e la diffusione sul mercato e integra l'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia in più abbiamo una maggiore apertura in questa fase attuale del programma e quindi è stato introdotto il principio della scienza aperta che deve diventare un po' il modus operandi del programma e questo richiede che il libero accesso alle pubblicazioni e ai dati per consentire la diffusione sul mercato e rafforzare il potenziale di innovazione e dei risultati generati dai finanziamenti dell'Unione Europea in più la vera novità è questa delle missioni queste si ispirano al programma spaziale statunitense Apollo queste missioni sono un insieme di azioni interdisciplinari che cercano di dare delle soluzioni concrete ai problemi che sono rilevanti per la vita quotidiana di cittadini europei diciamo a ogni inizio anno la Commissione Europea individua quelle che sono le aree di missione per l'anno a seguire quindi per il 2021 per esempio sono state identificate cinque aree di missione che sono l'adattamento ai cambiamenti climatici la lotta al cancro le smart cities e le città climaticamente neutrali oceani, mari, costi e corsi d'acqua sicuri e il suolo e l'alimentazione sana e ogni anno come vi dicevo verranno identificate diciamo quelle che sono le missioni per gli anni successivi inoltre verrà creata tutta una nuova generazione di partenariati europei per cercare di ottimizzare il numero di partenariati che l'Unione Europea programma o finanza in collaborazione con alcuni partner come quelli dell'industria, la società civile e le fondazioni di finanziamento questo per fare in modo di aumentare l'efficacia e l'impatto nel conseguimento di quelle che sono le priorità dell'intervento del programma e in più, questo è molto importante si prevede una forte sinergia con gli altri programmi dell'Unione Europea cercando di armonizzare quanto più possibile le regole di ammissibilità dei costi questo sia per evitare sovrapposizione e duplicazione ma anche proprio per cercare di aumentare quelli che sono gli effetti leva dell'Unione e quindi possono essere trasferimenti da altri programmi dell'Unione e all'attività di Horizon Europe chi può partecipare al programma Horizon? sto vedendo che c'è una domanda i programmi Horizon possono partecipare ai TS? allora, al programma Horizon idealmente possono partecipare tutti gli enti pubblici e privati e come vi dicevo il programma è aperto non solo ai paesi dell'Unione Europea ma anche ai paesi che sono al di là dell'Unione Europea che comunque poi contribuiscono con i loro fondi al programma ora il problema qual è? non è un problema di chi può partecipare al programma è il contenuto della nostra proposta progettuale dobbiamo capire che questo è un programma che si indirizza essenzialmente a università, istituti di ricerca e quindi si può partecipare al programma ma solo se noi abbiamo un partenariato forte con programmi che garantiscono comunque attività di ricerca o di sviluppo quindi è sempre bene includere all'interno del programma dei partner che siano o delle università o degli istituti di ricerca e così via quindi possiamo togliere questa prima domanda andiamo avanti ora parliamo del programma non mi ricordo più che c'è dopo è quel programma per il mercato unico allora questo programma va a sostituire due programmi precedenti che erano il programma COSME ve lo ricordate che era un programma che si indirizzava essenzialmente alle piccole e medie imprese e un altro programma che era il programma per la tutela di consumatori in questo nuovo periodo di programmazione sono stati uniti in un unico programma a cui è stato assegnato un budget di 4,2 miliardi di euro questo programma è stato già approvato si occupa del potenziamento e del rafforzamento del ruolo dei consumatori per consentire a molte piccole e medie imprese di prosperare quindi gli obiettivi del programma è quello di mantenere un elevato livello di sicurezza alimentare fornire quanto più possibile una protezione per i consumatori cercare di aumentare la competitività delle imprese in particolare delle piccole e medie imprese ma anche di migliorare tutto ciò che è la governance del mercato unico quindi sia rispetto delle regole ma anche facilitare il funzionamento del mercato unico anche attraverso la semplificazione delle regole per le piccole e medie imprese in più un altro obiettivo è quello di produrre e diffondere statistiche di alta qualità e l'elaborazione di norme europee che devono essere sempre più efficaci quindi i settori di intervento del programma sono quelli della sicurezza alimentare della protezione dei consumatori, della competitività quello di garantire un mercato unico efficace quello di elaborare statistiche europee sempre più precise che possano poi fornire da base per l'elaborazione delle politiche europee è quello di garantire norme sempre più efficaci ora non mi soffermo sui singoli strumenti perché altrimenti non riusciremo a finire in orario però vi lasciamo le slide che come sempre saranno pubblicate sulla pagina dell'evento a fine giornata ma preferisco andare avanti e continuare a darvi un po' quella che è la panoramica di tutti gli strumenti finanziari programma importantissimo specialmente in questo momento storico che stiamo vivendo è il programma per la salute che si chiama Youth for Health che sostituisce quello che prima noi conoscevamo come programma di azione per la tutela della salute al programma è stato assegnato un budget di 5,1 miliardi di euro come obiettivo a quello di rafforzare la resilienza dei sistemi sanitari e promuovere l'innovazione nel settore sanitario per far fronte a nuove e future minacce per la salute quindi fornirà finanziamenti ai paesi dell'Unione Europea e alle organizzazioni sanitarie in generale anche a tutte le organizzazioni non governative che comunque operano nel settore sanitario in realtà questo era un programma che era un po' in dubbio perché l'azione sanità era stata inclusa nel programma nei fondi strutturali nel fondo sociale europeo PLUS che si chiamava PLUS proprio perché prevediva al proprio interno i finanziamenti per il settore della sanità ma dopo lo scopo della pandemia è stato riassumato il programma perché ci si è resi conto che l'Unione Europea necessita di un maggior coordinamento tra gli stati membri nel momento in cui si verificano le crisi sanitarie ma principalmente deve essere in grado di dare una maggiore capacità a livello di UE per prepararsi alle crisi sanitarie e quindi cercare di combatterle e principalmente deve prevedere maggiori investimenti nei sistemi sanitari per far sì che siano pronti alle sfide future tra l'altro è stata istituita una nuova agenzia esecutiva dell'Unione Europea che si chiama l'agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale che è entrata in vigore in attività il primo aprile che si occuperà della gestione di questo programma le azioni che sono previste nell'ambito del programma sono delle azioni che serviranno alla preparazione in caso di gravi minacce sanitarie tra scrontaliere ci saranno delle azioni invece che mireranno a rafforzare i sistemi sanitari in modo che siano in grado di affrontare l'epidemia e le altre sfide a lungo termine e in più un'altra azione si occuperà quello di rendere i medicinali e i dispositivi medici disponibili a prezzi accessibili anche in breve tempo così analogamente a quanto è successo diciamo in un'occasione del covid devo dirvi una cosa per quanto riguarda il programma Horizon quello che noi molte volte non vediamo perché purtroppo anche i media in questo settore fanno una cattiva informazione e che per esempio quando è scoppiata la pandemia di covid il programma Horizon ha subito stanziato delle risorse per permettere agli operatori, alle case farmaceutiche di effettuare le ricerche sui vaccini e non solo sui vaccini ma anche sulle cure per evitare che la pandemia acquisisse questo carattere mortale in realtà è stato pubblicato il bando veramente a tempo record dentro fine marzo e nel giro di un paio di mesi sono state anche effettuate già le valutazioni dei progetti così per poter liberare le prime risorse finanziarie che sono andate poi a finanziare le ricerche e possiamo dire a un anno, due anni forse dallo scoppio della pandemia un anno dallo scoppio della pandemia come vedete abbiamo avuto una gran quantità di vaccini finanziati ma principalmente sono state finanziate moltissime cure che in alcuni casi si stanno rivelando importanti per evitare la malattia del genere quindi noi non riusciamo sempre a vedere gli effetti diretti di questi strumenti finanziari ma in realtà l'effetto diretto più grosso l'abbiamo visto proprio in occasione della pandemia grazie a Horizon che ha stanziato subito delle risorse economiche che è casomai anche dirottandole da altri settori ora l'altra cosa importante che ve lo dico per questo programma ma in realtà vale un po' per tutti l'Unione Europea sta sempre più diciamo sottolineando il fatto che ci debba essere energia tra i vari strumenti finanziari per quanto riguarda il programma sanità questa sinergia è prevista come vi dicevo prima già con il Fondo Sociale Europeo Plus dove ha proprio un'azione dedicata al sostegno ai gruppi vulnerabili per quanto riguarda l'accesso all'assistenza sanitaria ma ancora può essere integrato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per tutto ciò che riguarda il miglioramento delle infrastrutture sanitarie a livello regionale in più come vi dicevo con Orizzonte Europa perché ha esattamente una linea che si occupa di sanità e in più con Resc.eu perché può servire per la costituzione di scorte di forniture mediche di emergenze anche con il programma Europa Digitale per tutto ciò che riguarda la digitalizzazione del sistema sanitario tenendo presente che anche il programma prevede un'azione digitale al suo interno come sempre tutti gli stati membri possono partecipare e beneficiare del programma e in più possono partecipare le organizzazioni non governative le organizzazioni internazionali che in qualche modo si occupano di questi settori andiamo avanti col programma per l'Europa Digitale al quale sono stati assegnati 7,5 miliardi di euro questo è un programma nuovo che non esisteva nel periodo di programmazione precedente e si basa sulla strategia per il mercato unico digitale che è stata varata a maggio del 2015 e sui risultati che sono stati ottenuti negli ultimi anni l'obiettivo principale di questo programma è chiaramente quello di contribuire alla trasformazione digitale dell'Europa che deve essere a vantaggio sia dei cittadini come utenti finali ma anche delle imprese che devono essere sempre più in grado di poter svolgere la propria attività in maniera veloce e semplificata in più il programma potenzia le capacità dell'Europa nei settori chiavi delle tecnologie digitali tramite un'implementazione su vasta scala e amplia la diffusione e l'adozione nei settori di interesse pubblico e nel settore privato il programma prevede 5 ambiti di intervento il calcolo ad alte prestazioni l'obiettivo specifico 2 dell'intelligenza artificiale l'obiettivo 3 che si occuperà essenzialmente di cipersicurezza e quindi di fiducia l'obiettivo specifico 4 che si occupa di competenze digitali avanzate e l'obiettivo specifico 5 che si occupa di implementazione e impiego ottimale della capacità digitale interoperabilità dell'Europa però volevo dirvi questo per quanto riguarda questo tema noi abbiamo già organizzato una giornata informativa sulle opportunità europee per il settore digitale quindi vi invito se siete interessati ad approfondire il tema del digitale di riascoltare la video lezione che si è occupata di questo dove tra l'altro è intervenuto il dottor Vittorio Calaprice della rappresentanza in Italia della Commissione Europea e che si occupa del digitale all'interno della Commissione Europea così come vi anticipo che noi prevediamo delle ulteriori giornate di approfondimento nel settore digitale perché il nostro Europe Direct è inserito nell'area innovazione digitale del Formex APA quindi sorvolando su quelle che sono le singole azioni appunto perché vi invito ad ascoltare l'altro webinar una cosa importante volevo dirvi che per quanto riguarda l'azione garantire un vasto uso delle tecnologie digitali nell'economia e nella società verranno creati dei digital innovation hub che fungeranno da sportelli unici sia per le piccole e medie imprese che per le pubbliche amministrazioni e quindi forniranno l'accesso a competenze tecnologiche strutture di sperimentazione oltre a fornire consulenza per valutare meglio la fattibilità economica dei progetti di trasformazione digitale quindi sarà inoltre dato il sostegno a una rete di poli dell'innovazione digitale i cosiddetti digital innovation hub affinché sia garantita la copertura geografica europea più ampia possibile il digital innovation hub in Italia è ospitato a Polonia e quindi vi invito a rivolgervi a questi digital innovation hub se avete intenzione di presentare un progetto in questo settore perché loro sono in grado di fornirvi una consulenza e quindi di fornirvi un primo parere su quella che è la fattibilità della vostra idea e questo bando per la selezione degli European Digital Innovation Hubs è scaduto il 24 settembre e quindi poi in seguito a questa valutazione di questo bando è stato creato il primo digital innovation hub ora qui parliamo di quattro fondi dedicati all'asilo migrazione frontiere e visti questi sono molto importanti anche perché l'Unione Europea ha aumentato i fondi destinati a questi settori quindi per quanto riguarda il 2021 e il 2027 abbiamo quattro fondi abbiamo il fondo asilo e migrazione che è stato trasformato ma anche potenziato il fondo per la gestione integrata delle frontiere che comprende sia l'ex strumento per la gestione delle frontiere visti ma contiene anche un nuovo strumento che si chiama strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale poi abbiamo il fondo sicurezza interna che è incentrato su tre nuovi obiettivi che sono l'aumento dello scambio di informazione l'intensificazione delle operazioni congiunte trasfrontaliere ma anche il rafforzamento delle capacità per contrastare e prevenire la criminalità in più è stato istituito questo nuovo fondo europeo per la difesa che è stato già approvato tra l'altro che deve coordinare integrare e amplificare gli investimenti nazionali per la ricerca nel settore della difesa nello sviluppo di prototipi e nell'acquisizione di tecnologie e materiali di difesa prima di cominciare a illustrarveli lo faremo molto velocemente però mi sto vedendo una domanda i quattro fondi per il settore migrazione di quale programma fanno parte fanno parte di questo fondo per l'asilo la migrazione e le frontiere visti come lo vedete questo qui programma il settore dell'asilo migrazione frontiere visti questi quattro fondi che vi ho citato fanno parte di questo fondo più vasto devo dirvi anche un'altra cosa questo è uno strumento finanziario impropriamente detto diretto perché in realtà funge sia come un fondo diretto che indiretto diretto perché una parte del programma viene gestito con la pubblicazione di bandi che sono validi per tutti gli stati membri dell'Unione Europea però c'è anche una parte che viene gestita a livello nazionale e quindi avremo delle autorità una sorta di autorità di competenti che equivalgono un po' alle autorità di gestione dei fondi strutturali che si occupano sia di approvare il programma a livello nazionale ma anche quello di pubblicare le proposte sul proprio sito vi dico subito che noi nei bandi non copriamo non andiamo a monitorare anche questi programmi che vengono pubblicati a livello nazionale noi ci occupiamo solo di pubblicare quello che avvengono a livello internazionale quindi se poi siete interessati a guardare i programmi a livello nazionale vi invito ad andare a visitare il sito web dei punti di contatto nazionale questo è il fondo esilo e migrazione che avrà un budget di 8.705 milioni di euro e dovrà istituire un sistema europeo comune di esilo più forte e più efficace e dare un maggiore sostegno all'integrazione e occuparsi anche di rimpate che dovranno essere più rapidi e più frequenti quindi sosterrà quelli che sono gli sforzi a livello di stati membri per dare accoglienza ai richiedenti asilo e anche di mettere in alto tutte quelle che sono le misure di integrazione si occupa anche di sviluppare una politica comune in materia di asilo e migrazione e in più si occupa di garantire quelle che sono le sinergie che si possono creare con la politica di coesione specialmente per ciò che sostiene l'integrazione socio-economica con la politica esterna di questi fondi che sono stati assegnati al programma quindi degli 8.705 milioni 5,523 milioni sono stanziati e sono assegnati a programmi nazionali che come vi dicevo vengono gestiti come una sorta di fondi strutturali mentre 3.182 milioni sono assegnati allo strumento tematico lo strumento tematico appunto lo sarebbe lo strumento che vale per tutta l'Unione Europea tra l'altro lo strumento tematico comprende una componente che viene dedicata alle azioni mirate a volte ad affrontare la migrazione esterna le dotazioni per gli stati membri si basano su criteri oggettivi che vengono sono legati all'asilo alla migrazione legale e all'integrazione nonché al contrasto della migrazione irregolare comprese i rimpatri e saranno aggiornate nel 2024 con effetto a decorrere dal 2025 sulla base dei dati statistici più recenti che saranno resi disponibili nel 2024 poi per quanto riguarda il fondo per la gestione integrata delle frontiere questo va a sostituire due fondi precedenti lo strumento per la gestione delle frontiere visti che era previsto nell'ambito del fondo sicurezza interna e lo strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale questo strumento è stato appunto è stato creato questo nuovo strumento che si chiama il fondo per la gestione integrata delle frontiere che comprende a sua volta un nuovo strumento che è questo strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale che quindi consentirà alle dogane di comprare proprio i computer e il server che in genere non è una delle azioni che viene previsto nell'ambito dei finanziamenti diretti ma in questo caso si fa un'eccezione perché per poter permettere alle dogane di poter collaborare da loro è necessario poter acquistare delle attrezzature questo nuovo strumento mira a rafforzare le frontiere comuni dell'Unione Europea in particolare grazie alla guardia di frontiere e costiere europea che se vi ricordate nella puntata precedente vi avevo detto che questo era uno dei capisaldo della nuova Commissione Europea cioè quella della costituzione di una nuova guardia di frontiere e costiere europea che quindi continuerà a essere una grossa priorità per il nuovo fondo anche in questo caso qui avremo una dotazione a livello nazionale e una dotazione di fondi a livello europeo in più appunto integrata da quelli che sono i fondi stanziati per la costituzione di questa agenzia europea della guardia di frontiere e costiera il fondo per la sicurezza interna non fa nient'altro che proseguire le azioni del fondo della sicurezza interna del precedente periodo di programmazione altri obiettivi quello dell'aumento dello scambio di informazioni le intensificazioni delle operazioni congiunte trasfrontaliere e rafforzamento delle capacità per contrastare e prevenire la criminalità questo nuovo fondo di sicurezza interna in realtà ingloba un po' quelli che erano gli ambiti di azione che corrispondevano allo strumento di polizia che noi conoscevamo come ISF1 del fondo di sicurezza interna del periodo precedente in realtà niente fa altro che rafforzare la cooperazione operativa e lo scambio informativo delle attività di contrasto alla criminalità al terrorismo e a tutti quelli che sono i fenomeni connessi alla radicalizzazione anche in questo caso qui abbiamo la suddivisione tra quelli fondi assegnati a livello nazionale e i fondi assegnati allo strumento tematico il rapporto è di 60% assegnati a quello nazionale il 40% assegnato a quello europeo le azioni che possono essere finanziate tutti quelli che sono azioni inerenti problemi di sicurezza che imprevisti e anche lo sviluppo alla preparazione nazionale le emergenze non vengono finanziate però tutte quelle che sono le azioni che rientrano nel normale attività di mantenimento dell'ordine pubblico che viene previsto a livello nazionale dai singoli paesi i fondi che vi ho appena elencato non sono stati ancora approvati l'unico fondo che è stato già approvato invece è il Fondo Europeo per la Difesa abbiamo già la pubblicazione in gazzetta ufficiale che promuove la competitività l'efficienza e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa attraverso il sostegno a progetti di ricerca collaborativa che devono migliorare le prestazioni delle capacità future oppure devono avere altro obiettivo quello di promuovere nuovi prodotti e tecnologie destinate al settore della difesa cercando così di ridurre quanto più possibile la frammentazione dei vari prodotti ma anche delle varie tecnologie che vengono utilizzate in tutta l'Unione Europea promuove inoltre la cooperazione tra gli stati membri per rafforzare la competitività e la sovranità tecnologica industriale del settore contribuendo all'autonomia strutensica dell'UE nel settore quindi può finanziare sia progetti di ricerca che iniziative di sviluppo inoltre altro obiettivo di questo fondo è quello di rafforzare quanto più possibile l'interoperabilità dei vari sistemi di difesa che vengono utilizzate dalle diverse forze armate dell'Unione Europea in realtà il fondo può anche prendere in considerazione la cooperazione degli stati membri all'interno di altre organizzazioni regionali e internazionali come per esempio la collaborazione con la Nato ancora il fondo prevede una dotazione di 7,9 miliardi di euro di cui 2,6 miliardi di euro sono destinati alla ricerca 5,3 miliardi a progetti di sviluppo volevo chiedere alle colleghe siccome siamo fuori orario perché sono le 11.32 e io non ho ancora finito se potevamo chiedere la disponibilità di aula alle colleghe di modo che andiamo un pochettino più di tempo mi servirebbero altri 10 minuti per poter completare poi abbiamo il fondo giustizia diritti e valori che subentra il programma giustizia del periodo di programmazione precedente ha una dotazione di 305 milioni vi annuncio che ci prenderemo ancora 10 minuti perché le colleghe hanno verificato la disponibilità e quindi possiamo continuare se per voi va bene l'obiettivo è quello di contribuire all'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia che deve essere basato sullo stato di diritto compreso l'indipendenza e l'imparzialità della magistratura il riconoscimento e la fiducia dei ciproci e principalmente prevede azioni di cooperazione giudiziaria contribuendo in questo modo anche al rafforzamento della democrazia dello stato di diritto e della protezione dei diritti fondamentali quindi l'obiettivo principale è quello di facilitare la cooperazione giudiziaria in materia civile penale e quindi promuovere lo stato di diritto sostenere la formazione giudiziaria per promuovere una cultura giuridica giudiziaria e dello stato di diritto comune e agevolare l'accesso effettivo alla giustizia per tutti mettendo a disposizione strumenti di ricorso ed efficaci inoltre il programma intende promuovere i procedimenti civili e penali più efficienti per rafforzare e sostenere i diritti delle vittime e delle criminalità come pure i diritti procedurali degli indagati e degli imputati nei procedimenti penali e noi sappiamo quanto questo concetto si avviene in Italia dove purtroppo siamo molto lenti per quanto riguarda tutto l'aspetto dei processi quali attività possono essere finanziate attività di sensibilizzazione di formazione attività di apprendimento reciproco attraverso lo scambio di buone prassi possono essere finanziate quelle che sono le attività di analisi e di monitoraggio lo sviluppo e l'utilizzo di tecnologie e dell'informazione che quindi devono tendere al miglior funzionamento per la magistratura e anche lo sviluppo delle capacità e delle principali rete a livello europeo possono partecipare presentare progetti le organizzazioni non governative gli organismi per le pari opportunità le amministrazioni pubbliche le reti giudiziarie e le università altro programma che tra l'altro è stato approvato su questo andiamo molto velocemente perché sono programmi che vi interessano forse di meno perché sono molto settoriali il programma PERI che è un programma che si occupa di protezione delle banconote e delle monete in euro contro la contraffazione monetaria alle relative ai frodi fanno parte di questo partecipano a questo programma sia i paesi membri che chiaramente hanno adottato l'euro ma anche i paesi membri che non sono i paesi che non sono stati membri dell'unione europea ma che hanno adottato l'euro come moneta nazionale e in questo caso i paesi che non hanno adottato l'euro sono i paesi che appunto dipendono da paesi dell'unione europea come l'Andorra il principato di Monaco San Marino lo stato della città del Vaticano ma ci sono anche il Kosovo e il Montenegro che pur non essendo stati membri dell'unione europea hanno adottato l'euro come moneta nazionale così come tutti i paesi appunto che fanno parte di stati membri con il tipo la comunità autonoma delle isole canarie che appartiene alla Spagna e così via in più le azioni previste del programma possono essere organizzate congiuntamente dalla commissione e anche da altri partner che hanno le competenze richieste quindi parliamo delle banche centrali nazionali della banca centrale europea quindi come vedete questo è un programma che si indirizza essenzialmente alle banche nazionali e quindi perciò andiamo un pochino più veloci abbiamo un altro programma che è stato adottato da poco che è il programma antifrode dell'unione europea che ha un triplice obiettivo quello di prevenire e combattere la frode e la corruzione e ogni altra attività illecita che può essere illesiva degli interessi finanziari dell'unione europea fornisce gli strumenti per l'assistenza reciproca in maniera doganale e sostiene la segnalazione di frodi e irregolarità da parte degli stati membri questo programma finanzia variazione tra cui lo sviluppo di strumenti informatici attività di formazione ma principalmente fornisce il sostegno alle attività di indagine e anche attraverso l'acquisto di attrezzature tecniche oppure attività di indagine congiunte delle autorità doganali degli stati membri altro programma settoriale sul quale andremo velocemente programma fiscali se anche questo è stato adottato da poco e mira ad aiutare le autorità fiscali nazionali nella lotta contro la froda e le evazioni fiscali cercando di favorire nel contempo il rispetto dell'obbligo tributario per garantire una giustizia fiscale per tutti quindi questo programma concorre a liberare tutte le potenzialità del mercato unico e quindi a promuovere la competitività dell'Unione Europea questo è uno dei pochi programmi che prevede azioni finanziabili al 100% vi ricordate che l'altra volta avevamo detto che il tasso di cofinanziamento può variare per i programmi dal 50 al 100% questo è una che il 100% era un po' una delle eccezioni lo troviamo in qualche azione di Horizon e in qualche altro programma il programma Fiscalis è uno di quello che prevede queste eccezioni ancora un altro programma che è stato anzi questo è stato il primo programma dell'Unione Europea che è stato adottato quest'anno e sostiene l'Unione Doganale e quindi la collaborazione tra le varie autorità Doganali europee per tutelare gli interessi finanziari ed economici dell'Unione e dei suoi stati membri anche per garantire la sicurezza all'interno dell'Unione e così tutelare l'Unione dal commercio sleale e illegale facilitando nel contempo le attività commerciali legittime andiamo avanti l'ultimo programma e questo è importante perché è il fondo InvestEU in realtà questo non è un non è proprio uno strumento finanziario diretto però ve lo volevo presentare perché è importante questo è un programma a fare di investimento dell'Unione Europea che ha come obiettivo quello di rilanciare l'economia europea e fornisce quindi finanziamenti a lungo tempo per cercare di sostenere quelle che sono le principali politiche dell'Unione Europea nel quadro di una ripresa dalla crisi economica e sociale che abbiamo vissuto prima a causa della crisi economica e poi con la pandemia questo incorpora un gran numero di programmi di finanziamento del periodo precedente rifacendosi un po' un modello che era stato adottato dal piano di investimenti per l'Europa che era stato diciamo un po' il piano punta della commissione Juncker e che aveva poi anche consentito diciamo di conseguire importanti risultati questo fondo permetterà di mobilitare investimenti tramite una garanzia del bilancio dell'UE di 38 miliardi di euro di cui 11 25 miliardi di euro saranno destinati a finanziare le infrastrutture sostenibili 11 25 miliardi di euro saranno utilizzati per la ricerca e l'innovazione 11,5 miliardi di euro per le piccole e medie imprese e 4 miliardi di euro per gli investimenti sociali e le competenze questo fondo agirà attraverso modalità diverse modalità di finanziamento interventi di venture capital equity prestiti bancari e copertura garanzie e darà il sostegno a 4 a 4 settori differenti innanzitutto progetti per infrastrutture sostenibili quindi per esempio nel settore dell'energia rinnovabile della connettività digitale dei trasporti dell'economia circolare dell'acqua di fiuti e anche delle altre infrastrutture ambientali poi abbiamo progetti che favoriscono la ricerca la crescita delle imprese innovative e la digitalizzazione come per esempio il settore dell'intelligenza artificiale la commercializzazione dei risultati della ricerca eccetera e poi abbiamo l'accesso ai finanziamenti di piccole e medie imprese e anche progetti che favoriscono l'innovazione sociale le competenze di istruzione la formazione dare il sostegno all'edilizia popolare alle scuole all'università agli ospedali le cure mediche la microfinanza l'imprenditoria sociale l'integrazione dei migranti rifugiati e persone vulnerabili il programma comprende quindi essenzialmente tre tipi di strumenti il fondo invest.eu un polo di consulenza invest.eu e il portale invest.eu come vedete vi ho anche indicato i vari link per accedere a questi a questi a questi come devo dirvi azioni strumenti ora i quattro settori di intervento ne abbiamo parlato invece abbiamo il polo di consulenza invest.eu fornisce consulenza tecnica e progetti di investimento in cerca di finanziamento quindi voi tramite portale potete rivolgervi a questi consulenti di invest.eu e cercare di capire se la vostra idea può essere finanziata nell'ambito dell'invest.eu in più e questo è molto importante questo fondo prevede un portale che fornisce la banca dati che cerca di riunire quelli che sono i progetti tra l'idea progettuale e gli investitori quindi fa una sorta di matrimonio domanda offerta per cercare di capire se ci sono per i progetti che sono pubblicati degli investitori interessati a finanziarli quindi era importante presentarvelo perché come vedete qui c'è un altro importante pool economico gruppo economico che può essere utilizzato per sviluppare le vostre idee io per finito vi chiedo scusa se siamo andati un po' lunghi però i programmi erano tanti e volevamo comunque fornirvi questa prima panoramica rinviando poi alle schede di approfondimento presenti nella nostra banca dati programmi comunitari e tenendo presente che organizzeremo delle giornate informative specifiche coinvolgendo i punti di contatto nazionale di questi programmi e quindi vedo ah perfetto ci sono le domande Raffaella vuoi intanto collegarti per per aggiungere qualcosa sì Claudia in realtà ci sono poche domande perché come al solito si è stata super esaustiva in questa tua panoramica ad ampio spettro Andrea Pardin chiudeva se potete vedere potrebbero essere due le interpretazioni o che sono state esaustiva oppure che non hanno capito proprio nulla e qui scherzo chiaramente allora la prima la prima che hai detto quindi chiedevano i beneficiari del programma giustizia diritti e valori esatto sono questi sono le organizzazioni non governative gli organismi per le pari opportunità le amministrazioni pubbliche le reti giudiziarie e le università l'importante è il tema poi chiaramente questi materiali vengono resi disponibili Claudia quindi le slide con tutti i link e gli approfondimenti saranno resi disponibili già a partire da domani la registrazione del webinar dateci qualche giorno in più ma insomma nei prossimi pochi giorni la renderemo prontamente disponibile in maniera tale che chi volesse riascoltare o volesse invitare altri colleghi che non hanno avuto modo di partecipare oggi potranno fruirne in modalità asincrona per gli attestati anche vi ricordiamo cortesemente di darci qualche giorno di tempo di avere qualche giorno di pazienza perché siete numerosissimi e questo ci fa molto piacere ma richiede anche un pochino più di tempo nell'elaborazione dei dati rispetto alla vostra partecipazione per evitare i misunderstanding ed equivoci ricordiamo che l'attestato potrà essere scaricato soltanto da coloro che si sono effettivamente iscritti noi ovviamente come di consueto per garantire la più ampia partecipazione ed essere inclusivi al massimo vi consentiamo anche di accedere come ospiti però ricordiamo e ripetiamo che coloro che hanno seguito come ospiti purtroppo non possono scaricare l'attestato di iscrizione ecco perché vi invitiamo sempre a iscrivervi entro il time limit che di solito sono le ore 16 del giorno precedente dell'evento di vostro interesse quindi Claudia non so se voglio aggiungere qualcosa se il professor Montini vuole fare un saluto di congedo o se vogliamo direttamente Raffaella c'è un'ultima domanda volevo rispondere a quest'ultima domanda il programma prevede prestiti allora per tutto ciò che riguarda i prestiti i contributi innanzitutto visitate il portale InvestEU che è molto chiaro e vi potrà chiarire molti di questi aspetti che vi ho presentato in maniera molto veloce però vi ricordo in seguito alla lezione diciamo precedente che vi avevo anche presentato il portale La tua Europa per le imprese e lì c'è una sezione finanziamenti e una sezione degli intermediari a livello nazionale che può fornirvi prestiti o contributi anche per diciamo altri programmi che non siano solo quello di InvestEU quindi vi invito a visitare il portale InvestEU più la tua Europa sezione imprese mi sto zitta No e ricordiamo che appunto anche il webinar importantissimo in cui hai fatto questo inquadramento strategico sulle politiche del 21-27 e sulle strategie sottese quindi l'appuntamento della scorsa settimana è già la registrazione è già resa disponibile quindi il combinato disposto diciamo dell'appuntamento precedente e di questo appuntamento di oggi di presentazione dei programmi sicuramente fornirà un quadro molto molto chiare e completo a tutti i partecipanti quindi coloro che non lo avessero seguito la settimana scorsa li invitiamo a non perdere questa occasione importante di aggiornamento perfetto se abbiamo rubato già troppo tempo quindi forse vogliamo salutare i nostri partecipanti sì li salutiamo professor Montini a lei un ringraziamento a tutti i partecipanti soprattutto alla alla dottoressa Salve a Claudia che come al solito diciamo egregiamente è riuscita a condensare in un tempo così breve tutta questa quantità di informazioni e devo dire in modo molto chiaro e aprendo anche tanti spunti penso tante tante idee che a questo punto a tutti noi i nostri partecipanti sicuramente avranno e quindi potranno essere occasione poi di approfondimenti futuri anche nei nostri corsi e e in tutto il contesto diciamo dei centri Europe Direct in primo luogo e degli altri centri di supporto quindi davvero grazie e anche per la nutrita partecipazione anche oggi e niente ci vediamo la settimana prossima con l'ultima puntata di saluto no saranno saluti perché continueremo questo tipo di approfondimento e grazie anche dateci il tempo di riorgano e grazie anche alla dottoressa scordino che ha fatto l'introduzione a conclusione e che io erroneamente non avevo valorizzato nel suo ruolo di docente della settimana prossima e invece diciamo siamo contenti assolutamente è un ringraziamento anche ai colleghi in back che ci supportano a Giorgia a tutti i colleghi anche la rinnovazione digitale che rendono possibile insomma questo la realizzazione di questa attività online grazie a tutti ci rivediamo allora martedì prossimo per un'introduzione diciamo un ABC un'introduzione alla progettazione europea e vi auguriamo buona giornata e buon proseguimento di settimana arrivederci a tutti Marta vuoi dire qualcosa? no no volevo aggiungere qualcosa no no scusate volevo soltanto salutare tutti quanti e ringraziarvi particolarmente perché Claudia al solito è sempre bravissima è veramente un punto di riferimento un punto di riferimento una stella una stella solare non è una garanzia una garanzia assoluta grazie a voi possiamo stare tutti tranquilli e grazie anche a Raffaella a Massimiliano che ovviamente come sempre con le sue introduzioni ci introduce i lavori invitandoci sempre alla massima attenzione quindi grazie a tutti quanti davvero è stata anche oggi una giornata bellissima un bellissimo webinar grazie davvero grazie a voi per tutte queste belle parole ma principalmente grazie per la collaborazione in questo partenariano che poi è stata un'idea diciamolo dell'Università di Siena che invece ora sta prendendo piede e ci sta piacendo alla fine sta piacendo molto perché effettivamente è carino lo trovo un contributo davvero alla comunicazione importante imponente significativo spero che nel prossimo futuro si possa ancora parlare insieme svolgere un'azione proprio mirata come quella che stiamo facendo insieme in questa attività quindi speriamo di poter ancora fare tutto quanto nel migliore del modo possibile ma insieme ecco bene grazie a tutti perfetto allora benissimo allora grazie e a martedì prossimo martedì il 15 buona giornata ciao